L'applicazione fa incontrare la domanda e l'offerta, chi segnale il parcheggio viene associato a chi lo sta cercando e tramite geolocalizzazione e un GPS chi sta cercando parcheggio sa dove andare a parcheggiare. Trovare parcheggio a Bari non sarà più un incubo. A partire dal 23 giugno sarà disponibile su tutti gli store Android ed Apple un'applicazione che consentirà di trovare posto in maniera semplice e veloce. L'idea è di due barensi che hanno deciso di investire nella creazione di un'app chiamata Upar che consentirà lo scambio tra domanda e offerta, tra chi cede il posto e chi lo cerca. Il lancio ufficiale è previsto per il 23 giugno, tra pochi giorni. Abbiamo un partner tecnologico che è una delle aziende più importanti a livello italiano per quanto riguarda lo sviluppo di software e di applicazioni ed è un'azienda di Bari, si chiama Frankwood e quindi possiamo dire che tra founder e sviluppatori Upar è made in Bari 100%. Per quanto riguarda lo sviluppo di un'applicazione? Abbiamo fatto una COIS